Vuoi delle patate al forno perfette, croccanti fuori e morbide dentro? Ecco il nostro trucchetto! Taglia a cubetti delle patate a pasta gialla e metti in ammollo con il sare per almeno un'ora. Sciacqua bene in modo da eliminare l'amido e versale in acqua bollente. E ora il nostro segreto, un cucchiaino di bicarbonato per ottenere una superficie croccante e saporita. Sbollentale per 5 minuti e poi condiscile con sale, pepe, olio e rosmarino. Via in forno per 40 minuti a 190 gradi, voilà! Un po' di sale e sono pronte per essere mangiate! Sono perso, solute per essere mangiate! Tutti i nostri spettatori e mangiate! Il nostro corso è un po' di sale e mangiare un po' di sale e mangiare. Inece un po' di sale e mangiare. Cosa per la parte delle patate al forno per la parte delle mangiare? Un po' di sale e mangiare. Un po' di sale e mangiare. Un po' di sale e mangiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.